Amici di Moto Sapiens Road sono qui in questa meravigliosa piscina ai piedi di Monte Fiascone dove sto trascorrendo qualche giorno di vacanza prima di tornare al lavoro e volevo farvi vedere una cosa abbastanza particolare diciamo che ci siamo accorti in questi due giorni di piscina adesso potete vedere siamo qui in un bosco appena di sopra il lago di Bolsena che vedete in lontananza questo bosco qui è una particolarità è infestato da cinghiali e da cinghiali ma non cinghiali come abbiamo noi questi sono cinghiali marmari barra laziali una cosa sono enormi allora vedete qui hanno dovuto mettere tutto del filo spinato intorno eccoli intorno alla piscina perché di notte questi qua sembra che venivano a fare il bagno il proprietario ha dovuto mettere a posto questa rete perché stanotte l'hanno praticamente diventa adesso proveremo a vedere se riusciamo a vederli ecco 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 il maschio il maschio che passa vedete bene ragazzi la natura incredibile